Ci presentiamo, io mi chiamo Carlo e vorrei raccontarvi la storia di un mio amico, sì perché tutti abbiamo degli amici e anch'io ho un amico carissimo, questo amico si chiama, questo amico si chiama Pip, eccolo qua, buongiorno Pip, ma buongiorno, buongiorno, molto bene, come stai? Bene, 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 però qui io non vedo che tu non hai le protezioni, non hai la mascherina, no perché non c'è bisogno di avere le mascherina, siamo tu e io, siamo insieme da una vita, ci conosciamo da tanto tempo, ci siamo già fatti il tampone, quindi non c'è bisogno di niente, bravo, d'accordo, benissimo. Allora, dovete sapere che Pip è un po' monello, eh sì, è un po' monello. Andiamo a vedere insieme come trascorre la giornata il nostro Pip. Allora, Pip si sveglia, è ora di colazione e deve mangiare. Ah, ho fame, voglio mangiare, un attimo. Un attimino, sì, ok, d'accordo. Benissimo, avete già capito che Pip è molto affamato all'ora di colazione. E noi adesso lo aiutiamo a scegliere tra questi piatti. Che so, per esempio, Pip, tu vorresti mangiare delle sfrigolanti salsicce di serpente, eh? Chi vuole? Oppure vorresti mangiare delle visci del macchia al latte. Chi vuole? Ne voglio! O della fantastica marmellata di medusa. Ah, che buono, sì, voglio mangiare tutto. Ah, bravo, Pip, hai mangiato tutto? Sì, ho mangiato tutto, benissimo. Pip, ma insomma, ma... Scusatelo, Pip è piccolino, gli è scappato un... Fa anche rima, ruttino. Però, Pip, queste cose non si fanno in pubblico, per piacere, eh? Si fanno forse da soli in privato e basta così. Scusate, ma bravo, bravo, d'accordo. Benissimo, ha mangiato tutto, è proprio un ghiottone. Eh sì. Proseguiamo la giornata di Pip. È una bellissima giornata di sole. Pip prende la macchina e decide di fare una passeggiata. Oh, molto bene. In auto, Pip corre veloce. Pip, ti va di cantare una canzone? Sì, va bene, senza distrarti alla guida, però, eh? No, no, tranquillo. Cantiamo. Oh, Pip! Pip, scusatelo ancora. È entrata dell'aria in bocca e Pip adesso ha nuovamente fatto un ruttino. Pip, no, scusatemi, so che cosa si fa. Mi è scappato. Va bene, d'accordo. Lo scusiamo ancora un'altra volta. Va bene. Proseguiamo nella giornata di Pip. Ormai è già pomeriggio e Pip vuole andare al cinema. Va al cinema per vedere un film. Un film di mostri. Oh, no, 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 no. Che paura, mamma mia. No, 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 va bene. Però Pip si diverte da macchina. Come no? Pip, guarda i mostri, vedi? Ce ne sono alcuni con tanti occhi. Tu hai paura dei mostri? No, assolutamente. Soltanto che... 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 Micco va tutto a male. Mi è stato un tito in faccia. Oh, scusa, non me ne sono accorta. Piper... Sai che quando si starodisce bisogna portare un fazzolettino? Anche se di carta, ma di con un fazzoletino. Tira fuori il fazzolettino e non ce l'ho. Pippa come non ho il fazzolettino, non ce l'ho, ti devi soffiare il naso, ah si certo me lo soffio subito, non è la mia camicia, quanto è pieto, da me, passiamo ad altro, finisce il film e Pippa esce dal cinema, finalmente è l'ora della nanna, nota bene, ora aiutiamo Pippa a lavarsi i denti, però io vedo Pippa che tu hai fatto qui una cosa puzzolente e non hai tirato la catena, tira subito scusate, tira, bravo complimenti, no dicevo, aiutiamo adesso Pippa a lavarsi i dentini, Pippa per favore apri la bocca, Pippa apri la bocca per piacere, Pippa cortesemente vuoi aprire la bocca, dovresti lavarti i dentini? aspetta, so io come si fa, gli facciamo il sollettico sotto il mento, sul becco, ho capito, ci vogliono le maniere forti, Pippa vuoi aprire la bocca, si o no? Oh, bravo, spazzolino, dentifricio, hai già aperto, bravo, via, laviamo bene i dentini, laviamo bene i dentini, bravo Pippa, complimenti, adesso bisogna anche risciacchi per la bocca, gargalismi, l'acqua su, gargalismi, bravo, basta così, spuntano, non li faccio a me, Pippa, per piacere, oh, scusa, me ne sono ancora, me ne sono ancora, va bene, benissimo, oh, adesso, ok, bravo, sei lavato i dentini, sei pronto per andare a fare la nanna, bravissimo, meno male, eh, meno male, Pippa, si è già addormentato, sta già russando, benissimo, Pippa, non è possibile anche quando dorme, vogliamo dare il bacino della buonanotte a Pippa, uno, due e tre, buonanotte Pippa, buonanotte anche a voi, Pippa, buonanotte anche a voi, si era... ne siamo ancora a voi, per vi... per vi... per... per vi...